Buongiorno a tutti, benvenuti al video tutorial che riporta informazioni di base, di teoria e pratica sul funzionamento di un forno solare a scatola. Il progetto rientra all'interno dell'iniziativa del progetto Creabili, l'officina del Fai che è stata cofinanziata dalla regione Marche e che vede come soggetto capofila l'associazione che ho fatto con tutta una serie di partner, tra i quali le sentinelle dell'energia, di cui io sono rappresentante legali, Davide Bianchini. Accanto a questo video tutorial faremo anche un video tutorial sull'autocostruzione vera e propria del forno solare a scatola, in cui troverete ad assistermi Francesco Santori, un altro socio dell'associazione. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche essenziali di un forno solare a scatola e come cerchiamo di capire come poterlo utilizzare. Prima di fare questo vi segnalo subito che potete recuperare maggiori informazioni sui forni solari sul nostro sito internet alla seguente pagina e oltretutto tutte queste immagini e informazioni della presentazione sono rilasciate sotto licenza Creative Commons attribuici condividi 3.0 e se volete riceverla in formato PowerPoint, diciamo PPT, potete mandarci un'e-mail, saremo lieti di fornirvelo. Ecco, questo è un sketch della nostra pagina dedicata ai forni solari. Introduciamo quindi il principio di funzionamento dei forni a scatola. Prima di fare questo però cerchiamo di capire a che cosa siano equivalenti i forni a scatola per quanto riguarda i sistemi di cottura tradizionali. Da una parte un forno a scatola può sostituire un forno elettrico domestico e anche a gas che comunque utilizziamo per cuocere il pane, per cuocere la pizza e per fare le patate al forno, la carne arrosta. In più possiamo anche cuocere il riso, cosa che di solito si fa con una pentola su un gas. Possiamo effettuare anche la cottura a vapore, ad esempio tramite cuocere le verdure al vapore o ancora fare i cibinessi. Le immagini come vedete riportate sono tratte da fonti creative commons o comunque disponibili open source e quindi qui abbiamo riportato i riferimenti. Come funziona un forno a scatola? Vediamo quindi il principio di funzionamento. Un forno a scatola altro non è che una scatola, un contenitore, che è richiuso sulla parte superiore da una superficie trasparente che consente la creazione dell'effetto serra. Grazie all'effetto serra piano piano aumenta la temperatura dentro la camera di cottura per l'effetto concomitante di diversi fenomeni fisici. Vediamo infatti che all'interno della camera di cottura si creano fenomeni di conduzione termica dal momento che la radiazione solare, entrando e colpendo superfici nere conduttive, aumenta la temperatura del materiale che permette poi di trasferire il calore da una teglia scura ad esempio alla pentola posta in cottura, anch'essa scura. È molto importante che sia scura, preferibilmente nero. Nello stesso tempo abbiamo il fenomeno dell'irraggiamento. Irraggiamento che è dovuto al fatto che la radiazione entrante viene a colpire i corpi posti all'interno del forno a scatola che, preferenzialmente neri, assorbono la radiazione e la rimettono sotto forma di radiazione infrarossa. Ed è proprio questo che consente la creazione dell'effetto serra, in quanto i raggi infrarossi non sono in vetro, non è trasparente ai raggi infrarossi, ma solo alla radiazione visibile. O quantomeno è poco trasparente alla radiazione infrarossa, ne passa molto poco a fuori. Nello stesso tempo abbiamo fenomeni di convezione, perché l'aria all'interno della scatola si scalda e trasferisce il calore da una parte all'altra, rendendolo uniforme in tutta la camera di cottura e fondamentalmente all'interno della nostra pentola, piano piano, si viene a cuocere il cibo. Piano piano, perché la temperatura di cottura, la temperatura stazionaria raggiunta dal forno in determinate condizioni di arraggiamento solare, viene raggiunta dopo un transitorio. Ed è questo il periodo di cottura. E infatti, come vedremo dopo, si consiglia di pre-rescaldare il forno e anche le pentole prima di porre il cibo in cottura. Qual è la peculiarità del forno solare a scatola? Il forno solare a scatola, a differenza di altri forni solari, come nel forno a parabola, è un forno che cuoce tendenzialmente a bassa temperatura. Le temperature di esercizio possono essere comprese tra 150 e 250 gradi, a seconda delle condizioni atmosferiche e di arraggiamento solare, ma anche delle caratteristiche con le quali costruiamo il nostro forno. E infatti, appunto, l'efficienza del forno, sia ottica che termica, sia, ora del giorno, condizioni meteorologiche. Cosa comporta la bassa temperatura? La bassa temperatura non ci impedisce di cuocere, però comporta un maggiore tempo di cottura. Ma se ci pensate bene, questo non è un problema essenzialmente, perché il forno a scatola può essere lasciato all'aperto, al sole, mentre noi siamo a faccia andate a fare altro. Per alcune pietanze, però, è vero che, ad esempio, per la carne, si possono volere diverse ore per cuocere, soprattutto quanto più cibo mettiamo in cottura. Una caratteristica molto interessante è che si ottiene tendenzialmente una cottura più uniforme dei cibi. Se ci pensate, se noi cuociamo un alimento a temperature molto elevate, si tende a creare l'arrostitura, l'abbrostolimento superficiale del cibo che crea una sorta di scorza, una barriera, alla cottura interna. Ciò significa che internamente tende a rimanere più freddo. Se ci pensate, ad esempio, al gelato fritto cinese, si sfrutta questo principio fondamentalmente. Questo, da una parte, può essere un vantaggio quando vogliamo una cottura più uniforme. E, viceversa, un forno a parabola permette di friggere e anche di raggiungere temperature molto elevate, quindi di ottenere gli effetti opposti in una cottura non uniforme del cibo. Abbiamo un minore rischio di bruciature. Perché dico questo? Perché le bruciature degli alimenti si verificano a temperature maggiore di 180 gradi. Per cui, a meno che non abbiamo realizzato un forno a scatola molto potente, ci possiamo mantenere di sotto di questa temperatura e cuocere tranquillamente i nostri cibi con ottimi risultati, come vedremo dopo quelle che sono le reazioni che si innescano nella cottura degli alimenti, le reazioni chimiche. Non è possibile però friggere, cosa che invece possiamo fare con il forno a parabola. Quindi, come posso imparare a costruire e ad usare un forno a scatola? A costruire lo messo tra parentesi quadri perché non necessariamente voi dovreste essere portati a costruirlo. Noi vogliamo insegnarvi a farlo, però come associazione potremmo anche aiutarvi a costruirlo e poi voi potreste usarlo. Ecco, diciamo che la cosa essenziale è fare molta pratica. Perché dico questo? Perché ogni forno realizzato ha le sue peculiarità e non si tratta di un prodotto industriale standardizzato e inoltre appunto ognuno ha le proprie esigenze e preferenze in termini di cottura. Bisogna anche conoscere il sole, quelle che sono le caratteristiche del dirraggiamento solare durante le varie ore della giornata a varie le condizioni atmosferiche del periodo dell'anno. E bisogna conoscere, se vogliamo, la matematica e la fisica del forno. Diciamo che questo non è indispensabile, ma per le appassionate aiuta molto. Quindi fare pratica. Adesso non mi dilungherò su una cosa e anche perché rimanderò riferimenti sul nostro sito internet, ma voglio darvi qualche spunto. Allora, se noi conosciamo le caratteristiche fondamentali in un forno a scatola, il modo migliore per imparare ad usarne e fare pratica. Possiamo partire o da ricette specifiche per i forni solari, ma anche da ricette per i forni tradizionali. Abbiamo visto che tanto un forno a scatola sostituisce quelli tradizionali, cercando di capire che, essendo un forno a basse temperature con la scatola, dovremmo adattare i tempi di cottura e avremmo dei risultati un po' differenti in termini di abbrustonimento, piuttosto che di croccantezza, eccetera. a seconda del cibo che andiamo a cuocere. Ad esempio, per la carne, possiamo ottenere degli alimenti veramente teneri e gustosi e a intatto alla masticazione, grazie alla bassa temperatura di cottura. Se noi conosciamo a che temperatura lavora il nostro forno a scatola, possiamo appunto prevedere quanto tempo in più ci vorrà rispetto a un forno tradizionale di cui andiamo ad analizzare eventualmente una ricetta per cuocere il nostro alimento. In ogni caso, su internet si trovano delle ricette per i forni solari, come ho già detto, e quindi i tempi di cottura sono indicati. Fare pratica con il forno a scatola è fondamentale, ma se non sappiamo come funziona il sole faremo molto fatica ad utilizzarlo bene. Per questo, nella prossima parte della presentazione, impareremo a conoscere il sole.